benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale iniziamo la nostra consueta rassegna sportiva con il calcio nicolò barella si è sottoposto ieri a intervento endoscopico ai seni paranasali per sinusite presso l'istituto clinico humanitis di rozzano intervento fortunatamente perfettamente riuscito il centrocampista dell'intero servirà adesso qualche giorno di riposo prima di prendere gli allenamenti con il gruppo nella prossima settimana ho passato una bruttissima estate perché alla fine il discorso andava sempre lì si è parlato di fallimento europeo anche se dovrebbe essere stato giusto un'analisi più corretta perché adesso è stato bruttissimo è stata la partita contro la svizzera soprattutto per l'atteggiamento e per il fatto di essere stati a guendevoli e per avere o non onorato la nostra storia queste sono state parte del discorso di luciano spalletti realizzato in conferenza stampa per quanto riguarda le pro il prossimo appuntamenti per l'italia queste sono le convocazioni fatte dal nostro ct gianluigi donnarumma del pari san germen alex meretti del napoli e guglielmo vicario sono i portieri e nel difesa alessandro bastoni dell'inter raulo bellanova dell'atalanta alessandro buongiorno della napoli riccardo calafiore dell'asena andrea cambioso della juve giovanni di lorenzo del napoli federico di marco dell'inter federico gatti della juventus caleb o coli dell'ester e destiny ud oggi del tottenham a centrocampo convocazione per marco brescianini dell'atalanta riccolo fagioli della juventus davide frattesi dell'inter lorenzo pellegrini della roma samuel ricci del torino e sandro tonale delle newcastle in attacco muoise che nella fiorentina giacomo raspadori della napoli matteo retegui della talanta e mattia zaccagni della lazio per quanto riguarda il mercato qualche piccolo colpo è stato messo a segno per quanto riguarda in uscita nel mercato italiano la juventus ha seduto tiago di allò in prestito al porto e fermoso a parametro zero arriva alla roma e smoling lascia e va direttamente alla laipa azito azia torsias delle cagliari scende in sale scusate in danimar per andare al copenhagen cobalt invece lascia le farm per andare in repubblica cieca precisamente allo sparta praga per quanto riguarda l'estero all'ex teljes lascia l'almazdre con risoluzione del contratto la litiad invece prende bergwin dall'aix per 25 milioni di euro sima canna lascia l'ipsia per andare all'almazdre per 45 milioni di euro danilo vereira lascia il pari san germane per la litiad e la galatasaray prende jacobs in e per quanto riguarda rafforzare la squadra congolo lascia torna in olanda l'ex monaco esplodam firma con nec brega per quanto riguarda invece la serie a questi sono gli anticipi del e i posticipi della quarta giornata sabato 14 settembre ci sarà come bologna alle 18 empoli juventus e alle 20 e 45 milan venezia alle ore 15 e circolata il giorno 15 alle 12 e 30 ci sarà genoa roma alle ore 15 atalanta fiorentina e torino lecce cagliari napoli alle 18 monza inter alle 20 e 45 alle 18 e 30 invece di lunedì parma udinese e a concludere alle 20 e 45 lazio verona per quanto riguarda invece il grace open jannick zinger a vito contro tommy paul per 7 6 7 6 6 1 e affronterà domani daniel medveve il nostro portacolori azzurro e nel campo oggi come principale partita taylon fritz affronterà alexander schwerve per quanto riguarda invece il butia jasmin paolini ha perso contro carolina muncianova per 3 3 6 per quanto riguarda la partita principale oggi è tra la badosa e la navarro inoltre ieri e durante la nottata è stata giocata la partita la ingash via tech e lucia samsonova risultato 6 4 6 1 per la polacca per quanto riguarda il del misto oggi nel campo ishensu wayne e jannick zielinski contro saran e andrea vavasori per quanto riguarda il ciclismo nel corso la sedicesima tappa della vuelta di spagna il leader è sempre ben oconan della degla donna je de serp la mondiale passiamo all'atletica in oggi in ci sarà il palio di città della quercia dove saranno presenti già marco tamberi stefano sottile manuel per quanto riguarda il torneo ovviamente si inizierà alle ore 19 con il salto in lungo femminile alle 20 e 10 salto in alto maschile 20 e 45 100 metri ostacoli 20 e 30 leggetto del peso maschile 20 e 35 3.000 metri femminile 20 e 40 salto in lungo maschile alle 20 e 55 da 400 metri ostacoli alle 21 e alle 400 metri femmi maschile 21 e 35 100 metri femminile 21 e 15 100 metri maschile 21 e 25 110 ostacoli 21 e 35 800 metri femminile 21 e 45 800 metri maschile alle 21 e 50 3.000 metri maschile passiamo all'america scatto con la louise whitton cup in corso le seguenti regate che ci saranno ovviamente tra le ore 14 team new zealand contro luna rossa america magic contro neos britannica luna rossa orient express e a link contro america magic per ora la classifica vede luna rossa con quattro vittorie zero sconfitte secondo posto per in eos britannica con tre vittorie e una sconfitte terzo posto per america magic con due vittorie e due sconfitte orient express con una vittoria e tre sconfitte e ultima posizione per alì con zero vittorie e sconfitte passiamo alla canoa per quanto riguarda i convocati dell'italia per la coppa del mondo di canoa slalom che sarà in calendario dalle 12 alle 15 settembre ad ivrea nelle kayak maschile abbiamo giovanni de gennaio xavier ferrazi michele giuseppe pistoni di quello femminile stefani horn agata spagnolo e francesca malaguti per quanto riguarda la canadese maschile abbiamo raffaele ivaldi marino spagnolo ed elio maiutto per quanto riguarda quella femminile marta bertoncelli elena borghi ed elena micozzi per quanto riguarda le kayak cross maschile giovanni de gennaio zeno ivaldi e tommaso panico e quello femminile stefani horn chiara sabatini e agata spagnolo passiamo allo snowboard a cardona in nuova zelanda prova in colore per quanto riguarda l'italia nella specialità dello spropletis ivan matteone ha chiuso soltanto in 26esima posizione ed è stato eliminato nicola liviero non ha partecipato e mario pilò polizzi ha chiuso in 15esima posizione passiamo alla box a tokyo si disputerà il mondiale del titolo super gallo unificato all'affrontarsi saranno aioia inoue campione ibf wbc e wbo che affronterà dj doni per quanto riguarda il softball negli europei l'italia batte israele 53 e la grecia 7 a 0 con tre vittorie su tre in un corso invece la sfida all'ucraina chiediamo la nostra rassegna sportiva con il rugby questa è il ranking aggiornato a settembre sud africa in prima posizione davanti a irlanda nuova zelanda francia inghilterra argentina scozia australia non l'italia e decima le fisi con questa notizia vi auguriamo un sereno giornata grazie a tutti grazie a tutti